Buon pomeriggio a tutti cari amici, è il giorno del debutto della nostra massima nazionale italiana di calcio maschile per la Nations League 2020-2021, questa sera ci sarà la partita tra Italia e Bosnia, non vi so dire dove, non mi ricordo nemmeno, comunque insomma per quanto riguarda le probabili formazioni partiamo con l'Italia, previsto un 4-3-3, Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Gelini, Biraghi in difesa, Barella, Giorginio, Zagnolo a centrocampo in attacco Chiesa, Belotti e Insigne, Bosnia anche lei 4-3-3, Seic, Civic, Kovacevic, Bicacic come caccio si chiama, Kolasinac, Besic, Sabanazovic, Cimirat, Visca, Dzeko e Dulevi, allenatori Italia, Mangini, Bosnia e Baievic, sarà importante cominciare bene questo percorso in Nations League, Lega A, l'altra partita delle ore 20.45, Olanda-Polonia, quindi forza Italia e speriamo di iniziare con una bella vittoria davanti, beh dire davanti al nostro pubblico in questo periodo è un po' difficile però insomma davanti agli italiani, diciamo così per il resto buona a tutti e alla prossima, forza Italia e vive il calcio, ciao!